è emergenza usura anche se non se ne parla quasi per nulla già durante la pandemia è dilagato il credito malavitoso adesso l'aumento esponenziale dei prezzi il caro carburante e il caro delle bollette energetiche potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione economica delle attività economiche in difficoltà tanto quanto dei soggetti che sono più deboli famiglie e imprenditori ricorrono sempre di più al credito usuraio perché le banche immobilizzate da normative che sono troppo stringenti non riescono di fatto a rispondere all'attuale richiesta di credito bisogna facilitare l'accesso al credito anche di chi è in difficoltà con regolamenti più snelli e potenziando le garanzie pubbliche che sono destinati ai soggetti a rischio usura serve una riforma della legge anti usura perché si possano superare ritardi e farraginosità burocratiche che fino ad adesso hanno ostacolato la presentazione delle denunce da parte delle vittime e bisogna perseguire con fermezza i criminali che si arricchiscono stringendo il cappio al collo di chi è in difficoltà vogliamo ampliare la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari del fondo di solidarietà per le vittime di ostorsione e usura non solo ad attività economiche per esempio ma anche a famiglie e persone fisiche e vogliamo anche prevedere un'efficace rete di supporto e di informazione a chi è fortemente indebitato in modo che possa ottenere facilmente tutto il supporto del quale ha diritto compresa la risoluzione concordata dei debiti con lo Stato che introdurremo con la nostra tregua fiscale la nostra Italia è sempre dalla parte dei cittadini onesti è sempre pronta ad aiutare a rialzarsi chi è inciampato nel difficile cammino della vita